Ecco la linea verde. In casa Catania la spinta arriva dai giovani. In attesa dei giocatori di maggiore esperienza, ancora alle prese con problemi fisici, Pellegrino si affida ai ragazzi, alle possibili sorprese della stagione. Dopo i tre gol nella prima uscita, lo sloveno Barisic è andato in rete anche nel 2-0 all'equipe Sicilia, mostrando personalità e cattiveria sotto porta. Segno evidente che la stagione trascorsa al Milan sotto la guida di Pippo Inzaghi ha portato i suoi frutti. Barisic rappresenterà un'alternativa importante a Calaio, Leto, Casto e Rosina. Positivo l'esordio e rosso-azzurro dell'ex giocatore del Torino schierato da Pellegrino d'Esterno nel Tridente, ma che durante il match non di rado si è accentrato e cercato la profondità e la conclusione. Tornando ai giovani merita una menzione Fabio Aveni. Schierato nel secondo tempo dell'amichevole ha trovato la via della rete alla prima vera occasione. Altra alternativa di qualità per il reparto offensivo. Le amichevoli estive hanno soprattutto questo obiettivo, sperimentare e scoprire. Sperimentare nuove soluzioni tattiche, scoprire le qualità dei giocatori più giovani che poi durante la stagione trovano poco spazio. Poco importa dunque se le gambe sono ancora pesanti e se manca lucidità sottoporta. Buone cose, altre meno, però in effetti il lavoro ha inciso forse più del previsto riguardo alla fluidità che ci aspettavamo. Però insomma, bene, bene, siamo soddisfatti. E indicazioni positive sono arrivate anche dal centrocampo nella prima partita dopo il trasferimento al Chievo di Mariano Isco. Il Catani ha già trovato il suo erede. Krapek credo sia il naturale sostituto in questo momento di Isco. Un ragazzo che ha caratteristiche importanti, un ragazzo che in questo momento sicuramente sta soffrendo questo lavoro intenso per lui la prima volta e quindi però è un ragazzo di buonissima prospettiva. Un capitolo a parte invece merita Fabian Rinaudo, gladiatore e guerriero anche nelle partite amichevoli. Padrone nel centrocampo nel primo tempo, Pellegrino l'ha scoperto anche difensore centrale. Qualcosa in più di un semplice esperimento. Dopo Bellucci che abbiamo tra virgolette rischiato per 20 minuti, 25 minuti o meno la prima parte della gara. Non avevamo più difensore, non avevamo più calciatori. Rinaudo invece l'ha fatto al solito molto bene.